Il muto è l'affare Che diavolo è quell'affare? Il muto mi cede! Devo volere! Deve essere lì che si trova a Miran Andiamo! Arama biologica mutata avvistata! La muffa può rilasciare particelle infette Non toglietevi le moschere Certo che la DS era lancicicciù davvero pesante Devono ottenere Hanno pensato che fossero potremmeno intervenire Capo sono io Sono in postazione e mi preparo al fare fuori Ci vorranno tutti Ricevuto! Qui Tundra Capitano, lasciamo dei rifornimenti in una casa Si serva pure Amberhides, mi serve il supporto! Va bene, canto 200 metri all'oggetti Gratiosa Dottore Dottore gentle Grazie a tutti. 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 Esplosivo N. Grazie a tutti. 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 Distruggere il villaggio. No! Ti sbagli! Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Tu non puoi capire quanto lui sia speciale.